Ma che festi al fatto che gli horror e i grandi successi in tutto il mondo vengono un po' snobbati? Non tutti i festival, sempre il festival di Venezia, il festival di Cannes, c'è stato il mio film Dracula in 3D, quindi non tutti i festival di snobbaggio, anzi, i festival sono, penso, è un onore avere un film horror importante. Ma lei è l'unico italiano che non lo ha avuto in questi festival. Vabbè, vabbè, perché forse sono l'unico che li fa bene, insomma. Ma te l'hai fatto spaventare i miei italiani, tornerà con il suo film? Sì, sì. L'anno prossimo comincerò a girare un film. Sempre horror? Sempre horror. Ma le vetture vengono una premessa, non hai pensato? No, no, non mi vado.